surenza vieni vieni un attimo sì ciao rita dimmi ciao surenza ciao cosa secondo te significa questo 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 allora più meno uguale cuore amore ma siamo in quaresima venerdì ma certo la croce non è un più anzi è un più di amore e come diceva Monsignor Tonino Bello morire non è finire ma è voce del verbo amare grazie Gesù che morendo per noi ci ha detto tutto il tuo amore